ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo brevissimo video questo lucchetto è un lucchetto che possiamo definire definitivo perché beh le immagini parlano da sole si sta parlando di un lucchetto che pesa un chilo virgola 6 è in acciaio temperato con una lunghezza di 55 centimetri quindi si adatta benissimo a qualsiasi monopattino biciclette è dotato di quattro chiavi e abbiamo un cilindro tubolare a 10 pistoncini voi che ne pensate come vi sembra scrivetelo nei commenti vi lascio il link in descrizione ciao al prossimo video ciao 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 ciao